ogni volta che apro fortnite per un attimo devo essere prima di andare in game mi rallegra perché vedo lui vedo uomo cane quanto è bello quanta uomo cane con la felpa di fortnite che skin pazzesca poi in questi giorni su tik tok mi stanno girando una marea di robe tipo ehi ma non sai di avere questa skin gli account con questa skin costano fino a 300 euro quindi sono interessato ma non sta allenando il marzone ma che stai facendo quando le cose vanno male come a volte accade quando la strada appare sempre in salita quando le riserve sono basse e di debiti sono alti quando vorresti sorridere ma riesci solo a sospirare riposati se necessario ma non ti arrendere il successo non è altro che il risvolto del fallimento ma vuoi ridere io zano e zazza stanotte per due ore qualcosa abbiamo cercato un cecchino in una lobby di zombie ricordo non trovando un cazzo che mi ha portato alla fine ad andare a dormire a mezzogiorno oggi ve auguro l'ids spiace avresti ragione non c'è il cazzo ma dormi a mezzo da marzo non sei tu lo sai che non devi perdere i tuoi orari ma lo sai che non devi perdere i tuoi orari è un pezzo di merda ma infatti devo cercare di recuperare sei il socatore sei ma sarà difficile sei il risocaggio sarà difficile bambini chi ce sta pure de bambine grazie p22 mofardo peppe pf strama bernelli bentornati coach grazie per esabale riccardo e nix bentornati mi metti una bet non mi mette win or lose mettime boh 4 vabbè mettime dai mettime win no ma win or lose si no mettime win più 30 bombe dai mmm è un numero vabbè mettime win più 25 bombe la build mi metti solo win non avevo capito che era build oh ci ha vinto tt2 prima si ma c'è il problema della build raga è che io non gioco cioè sono uno spettatore no ma no non è che è una merda è che sono spettatore perché non so capace l'unica cosa che ho sbagliato è che ho cercato io invece le faccio cerca a te perché trovavamo bei cazzoni con te e quindi non buildava nessuno però la fortuna è che essendoci io che più o meno so farlo almeno se succede una tragedia posso davvero a mano mazza che cazzo di aim ho su sto gioco raga in un modo esagerato ma secondo me a livello dei aim non a livello dei q e come gioco ma a livello dei aim a mongral non gli do la pista ma me la gioco sono sicuro zanco grazie mi 24 dove stiamo a buttare vengo a milano butto una bomba a san siro dudo nelli bentornati ma comunque marzo mi sembra tanto strano che nessuno che nessuno di voi soprattutto me l'abbia fatto notare barra detto cioè che è successa sta succedendo lei no perché sto da qua ok 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 ho visto male io che sta succede marzo che mi partono le mie adi nella mia stream ah eeeh no eeeh come vedo c'è il sub no è perché da te cioè pure da te cioè c'è sta dolly noir che ha messo la pubblicità mia con l'occhiali bruttissimi zio porco nelle pubblicità di twitch ma non me l'ha detto nessuno ma l'hanno parte ma l'hanno sganciato two speech ammazza che sorci di rex ma questa è a me da me stanno a parte una marea di pubblicità c'è da di che io c'ho il bot io c'ho il bot che elimina se scrivi ad pubblicità quindi questo è per quello si c'è sta capito il metaverso che meglio parte alla pubblicità mia mentre c'è la pubblicità mia e quanto ti danno no a me niente male male terribile togli dire subito eeeh o che c'è sta qua che c'è sta a menta bates eeeh eeeh diventa subito un uomo c'è spuglio Eccolo lo conoscete ragazzi Uno ho fatto ma non vedo gli altri Conoscete il più forte di tutti Uomo cespuglio Uno qua sopra Lo faccio senza problemi Tanto la testa Bianco lo ribesso Bezzo Tanto ci deve sta fiducia tra le persone del team E' vero Non manca tutto Che è quelle motto del merda del cespuglio Chi ha messa Che è quella abominio Porca troia Ancata la mano Oh Scar silenziato blu Da merda Chi è guardi Fort Bush Ma come Fort Bush poi Spammateglielo Minuti più Oddio quella è una Bello Minuti più mi fa ridere Spammatemi un minuti più Minuti più mi è divertente Sì ma regà Ma già io so Sono rimasto indietrissimo No ma non ti devi preoccupare Già ma sono tutti dei bottazzi Sì sono tutti Eh guardale Guardalo Minuti più che ti guarda Tipo di striscia Mi fa troppo ride E sdrago E stucco Stucco Bing bang boom To make tutto un cool Una versione di caserta Di caserta Non la ci credo Sicimbra sacchino Suka No ci partivo Alcune video Ce l'ho a parte di così Verata No Non so Sono una cultura Ma è vero Ma qui so build Quindi mi devo fare due cose Mi devo Tirare due steak Cioè sta Ma ti dico la verità Neanche serve troppo Gnoda 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 Chi cazzo Sfai Medi Che ti Gnoda Come c'è gente Faccio subito Da me pure Guarda la mano Eh raga Dove ci sono Eh ragazzi Stai lasciato Di facendo Matto uno Ma zogia Bisogna mano No un fenomeno una bella curetta banda cazzo c'è bisogno della mano buonissimo assolutamente non c'è neanche bisogno di chiederlo raga ho capito quella roba è difficile ci ho provato è venuta per cura ho provato un tipo l'edit no 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 ho provato un 180 che cazzo l'hai provato stanzo stanotte impiamo zano e se andiamo a provare ma che sta da fare gli easter egg su zombie porco dio no vabbè io principalmente volevo andare a max livellarmi il cecchino mi sei precessivo creatore di minchie porca madonna ormai l'orario stanno a fanculo zano immagino anche a Milano stai con zano col cash in mano sempre che c'è zano non so dove cazzo c'è gente si ma che cazzo fai giftare veramente un mese a maury grazie davvero ma grazie ma qua c'è sta rift che fai nuovo dove mazo a pleasant sarà a piacere tuo ma veri o finti secondo me sono finti questo potrebbe essere no questo è vero è vero è vero livello di presa per culo se sto videogioco nei miei confronti è incredibile fammi far un po' de legno fammi far fare mia ma che sto triste si è beh comunque fratello dammo 80 un arbero base ma che è in realtà però è meglio così forse cioè mi ricordo nel tempo era pesante comunque se la frusta agli arberi infatti si adesso è capite tweet di per quello sta si sono a me piace un po' di più perché sto nel fight e ovviamente sto indietro a non fare nulla nulla cosmica adesso non si vedono le kill frate guarda t'assicuro non si vedrebbero lo stesso dove ce l'hai? fatto ma poi perché c'è la chat ma fa male va cazzo e servono i colpi a R da zone non ho neanche un tranquillo dai e questo build lo mangia tu funghi ma mangiai te i funghi a coglione ma che cazzo vuoi? ma dimmi come cazzo devo mangiare guarda ma me faccio questa e sturco arrivo ragazzi bastava letteralmente chiedermelo oh porco l'ho richiesto scusami morto fatto distrutto io continuo a sparazzazzone all'infinito non ci spariamo addosso fra di noi ok adesso salgo qui e mi faccio una cecchinata così a cross the map facile ah c'è uno dietro quella casa dietro quella casa oh è vero oh morto che spara che spara e che spari dai non stare lì dai non ho fatto malissimo potrebbero non essere finiti eh eh manca l'ultimo di questi c'è c'è un medikit una cura o qualcosa no no io ho medikit lo posso da lascia capo oh lancia aspetta ma pure qua c'è sta medikit in realtà aspetta prendi questo e sturco gracchie ho trovato un jpata gracchie fai due edit ciao patrice faccio uno qui modifico fatelo pure dei medikit che stai che pagliaggio buva che cazzo fai 13 mesi nella mia stalla grazie davvero è tornata porco gesù bambino ho la sveglia alle 5 e non riesco a torbire ma perché Fedez ha giftato 50 sub so poco infatti cioè la domanda è quella perché solo 50 mortacci sua se svegliasse perpendicolare ciao ma ciao questo mi sa che non lo conosci cos'è tu stai no che è sta cos'è sto cosa Tony Hawk ma che è raga ah ci puoi andare letteralmente ovunque oh andrò bussato qua a parco ma non è stato vabbè ragazzi ma un po' di game awareness dai ma stavo addor mio no mi faccio arrivo esturco estrongo come cazzo seguite sto cosa ma stanno a scendere oh mi stanno a sparare oh mortacci vostri ma che volete da dove come se scende alza su mi stavano a sparare ridi ridi che mamma ha fatto i gnocchi col sugo del bagarozzi ma guarda che cazzo ha fatto questo arrivo ninja di bari tranquillo uno credo sia nella casa di fronte si ninja lo è veramente a pezzo io pure alzo attenzione questa zona ne sa bravo uno sotto di me sta proprio in higher game ma quel coglione va bene danza gli sopra c'è sta uno qua al coglione del prima che ha pillato il cazzo vuole riprendere il cazzo bau bau chi è che spara scusa bau bau dove sei bau bau cucciolone bau bau dove sei pisellino bau bau ah si situazione chill ragazzi ho 16 di vita ma qualcuno c'ha tipo un aiutino ma t'ho lasciato prima il medico è buono soldato poi mi ho riperso la vita eh no ma perché sono rarissime non se si ricorda il pischello che inviava i pizzelli è veramente raro devo dire la verità bene sono proprio io i moggi il che non è bello il pingu io un ciolo nei marroni perché Fortnite vuole far caffè a tutti che la vita è una e non la devi spregare Tazzo mi sa che c'è qualcuno da te non vorrei di cazzo no ma è Tazzo che spara ma non penso ma non mi ha levato ah no non mi ha levato vita è Tazzo sta facendo le altre partite Davide Livu bentornati riga ma non voglio più sub non voglio poi ve le rifondo alle 4 e mezza vi arriva l'email Giacomo anche a te che mi ha gifto una sub è bruschetta grazie riga ma poi vi rifondo tutto thank you ma le posso accettare se no mi sembra il witch mamma quali si strane si no rega rega però che mi viene adesso io non trovo nulla poi faccio una cazzata e muoio che ne siamo piccolo dattino no stiamo andando stiamo andando nel lì per volare e chi stai a sparare ma sei matto no rega agna sono inutile ho zero kill sono ti stai un'altra a fianco sto useless as fuck che te prega devi far l'ultimo vabbè dove stanno secondo me mi posso fare qua sta arrivare il birbaccione arriva il picciole birbaccione il picciole birbaccione ha bisogno di una kill ma fame il picciole birbaccione stok perché io non l'ho preso vabbè senti vaffanculo a te arpicione birbaccione mi sa che quello è morto è morto tutto che cazzo sta ho lì ho quello col cieco ce l'ho morto ho merikit per te qua vabbè lo vengo a prendere comunque avevo preso col cieco e stanno sparata dietro no è sempre zazzone madonna non c'è da essere il lampinino perché il lampino te lo segna come lo spara ciao manuel non ho problemi pupo ben tornati 4 e 21 ragazzi mi raccomando se domani dovete fare tipo il puttanturri posatevi ma però qua c'è sta ragazza mi pare che non me la da qua è sturco è sorgonzio è sbrango oh bello ammazza ma che è sta zona perché è tutta rotta che lorra c'è qua dietro stavano i band ah regà mi hanno mandato un mio medikit porca mandoschina sì esatto non vedo se il bestemmia più ha deciso ho bisogno infatti bravo così mi piace nooo è bello questo ok ok boys we have to take the high ground right now to have a better positioning besides our enemies ma deluxe stanno a sparare deluxe sfortunatamente sei costretto a pagare 5 minuti di time out per queste 5 giftate perché io poi ci vado anche a pagare il rifunda su queste 5 quindi oh gente lì bravissimi signori e signori il dio di fortnite sono veri questi è marzo sono veri arrivo sì senti quell'altro che se casa appena devi fight a real cazzo tira fuori la capoccia ti vedo è bello doppia scala ce l'ho lo vedo come lo so dove mettere la testa occhio sinistra guardo ci pensano i ragazzi sto sparando eh ve li faccio i ragazzi fortino stanno 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 è una nuova lingua un liscio 156 questo questo è l'oro sono morto io preferirebbe il ragazzo un rampino per andarli sotto eh io c'è una cosa c'è una una palla di natale viola eh quella può essere interessante in realtà te dì porco dio che non ricarico me l'ero fatto quello no mi ha fatto uno da veloz magica rifungi anche le cento dio già marco è pronto anche prima che sta costruendo può sa e come batterla no inizia di bario sbagliato da dove è la vita vada aiutare il maestro la vita e la stocca fuma ci prova lo vede mi sale guarda 48 blu bravo che fenomeno ragazzo madonna fa un po' di build no bellissimo no ma chi cazzo fa no come si scende da le scale che fenomeno che fenomeno deriva one bravo marzo ah il brother che mi uccido dai gigi che io che io che io ho messo a sparare da destra e c'è un cecchino costruzionalismo non c'ho senso frate madonna sono in guardia sono veramente fortissimo 3 2 1 al bar hai preso jammo no oh no no cazzo sento non si aspetta che un altro invece costruisce un po' più storto mi incuriosisce chi sai stanno pure arrestati avanti lo sai il resto va per marzo non aspetta vuoi prendere maestra crea un furtino tattico che c'è un cecchino ah no eccolo l'ho creato chiudo qui che cazzo mi ha preso madonna ragazzi wifi giordi chat fra alex gm e teo vi stanno per ritornare 4 minuti e rifundo tutto non ci avete dei mamma mia sei il ciaddone finale marzo vuol medikit no ce l'ho l'ho visto dove ma le burro birra non esistono vero la non levate le burro birra no quelle là i blu e basta non ho visto uno scudino lo scudini ah c'è lo io lo scudino vuoi magari stanno qua tu di me e dove sei non c'è ancora il cieco figlio della miniatta da qualche parte esturco estra estra terra bravo minchia guarda che culo ma sto a fare game solo da cecchino ma che cazzo sto a fare ma quando lo vio c'è uno qua marzo dice non ho paura ci possa essere comunque dobbiamo andare in safe e attenzione molto a destra siamo in serie attenzione a destra perché ci abbiamo quelli che mi hanno ammazzato a prima è 3 di 1 è 3 di 1 gamma ah 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 just a null i will stay just a null si just a null è il nuovo è in versione un mix dov'è il figlio di puttana palesemente si sta nascondendo è tuo eh già ma lo so si è già via questo altri 50 c'è un po' di tentativi ce l'ho signore me lo faccio del supremo ma quella che c'è sta c'è sta un bel po' deropetta io ho già trovato la mia giocata no la trappola hai cazzato guarda che sta qua dentro questo capace oh attenzione oh eccentri così pazzo no look questo è un bot che more da safe no tipo non c'è spuglio tipo che sta da qualche parte il fio della mignotta valese ma ci penso io guarda io vuoi ma che cazzo è successo che muore dalla testa si ma perché me costruisce sempre storte ma porco oddio se può addirittura cambiare la cosa oh ma sfondato quando stava è pericoloso qua da destra a destra a destra costruzioni malate odio uomo di due ma da dove barbù forse davanti a te forse si 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 ammazza oh ma ha fatto male a me ma si fa rompe qua no 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 non è stupido eh ma c'ha l'inbot porco oddio ma giamma ma sia cazzo duro ma che me frega è la potenza cazzo è questa che so è questa come deve fare queste questa furia porco oddio le gioca a fort le te deve fare queste non penso contale 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 ma sa che cazzo che ci ha preso via umiliato via che fenomeno ah guarda che questo sparava questo sparava gli ha preso gli ha preso un 58 e poi in colpetto al test gli ha preso il bimbo e poi lo è